Finalmente, quando la luce è già molto alta, buttiamo nel fuoco l'ultimo buscio e, unendo i nostri sospiri, lo guardiamo bruciare. Il baggy è vuoto, la tazza piena fino all'orlo. Per l'ingresso, gli adulti pagavano un nichelino e i bambini due cents. La tazza piena Un bambino di sette anni, il fiato risa di whisky, ci ha dato di volta il cervello. Quello che scegliamo è alto il doppio di me. Per la verità, siamo così impazienti di ricevere i regali che non riusciamo a mandare giù un boccone. Io rimango deluso e chi non lo sarebbe? È una cosa che mi fa bollire. Mi fa bollire davvero. La tazza piena La tazza piena La tazza piena La tazza piena